Un evento che arricchisce e movimenta il sabato sera di Corso Vittoria Colonna a Dischia, un cocktail offerto da Alex Ball qui a Dischia. Per fare cosa? Esatto, siamo tutti qua, gli schitani sono tutti invitati a bere il nostro aperitivo e a guardare la nostra sfilata. Abbiamo organizzato questo evento con queste bellissime ragazze che potete appunto notare, che indossano le nostre creazioni tutte fatte a mano in Italia per celebrare i nostri 60 anni di attività e anche per celebrare l'isola di Dischia. Dicevamo creazioni delle due linee che sono presentate qui nel punto Alex Ball Milano ma a Dischia. Le modelle stanno indossando entrambe le linee perché entrambe le linee sono dedicate alla stessa donna, una donna sicura di sé alla moda che vuole differenziarsi dalle solite creazioni che si vedono attualmente nelle altre boutique. Una donna che vuole sicuramente fare colpo? Assolutamente sì e lo testimoniano le bellissime ragazze che potete vedere, che sono caratterizzate da personalità, da una bellezza naturale, esplosiva, energetica, vulcanica, proprio come l'isola di Dischia. Con quel tocco di classe del gioiello Alex Ball? Assolutamente sì, il gioiello Alex Ball è energia pura, è design, è classe, è prezioso, è fatto nei materiali più nobili, più belli, è unico, non si può non scegliere di indossarlo. Prezioso anche perché è completamente fatto a mano? Interamente fatto a mano in Italia, lo ribadisco, all'interno del nostro stabilimento a Valenza, tutte le nostre creazioni sono in oro 18 carati, diamanti top di gamma, pietre preziose e scegliendo una nostra creazione non si sbaglia, resta per sempre, resta per la vita e sono delle opere bellissime. Così come dopo l'evento di stasera Alex Ball resta qui a Dischia nella centralissima Corso Vittoria Colonna a disposizione di turisti e di schitani. Ormai cari schitani Alex Ball è arrivato e saremo qua per tanti, tanti, tantissimi anni, quindi sicuramente avremo modo di conoscerci e di continuare insomma a stare insieme.